ecco qua signor Filippa ho dovuto rimettere il mio pezzo con il relè vecchio perché l'altro col suo mi crea un sacco di non prende il disco allora metto la selezione questo suo macchinario in moto mettiamo A1 B1 tutto funziona bene mettiamo alla fine del disco deve rimettere il suo relè io le mando sulla le lascio la mia scatolina sotto e le rimando indietro la sua e lei si rimette il relè come era prima altrimenti questo non andrà mai bene questo è il B è un po' empirico qua ma insomma eccola adesso io questa richiudo nella scatola vorrei provare un altro facciamo non so C7 D7 C7 D7 le rimetterò una puntina nuova perché questa sono sei giorni che suono dopo lei sa come regolarsi qua il braccio perché io ho dei dischi ultimi qua che erano incisi un po' avanti comunque la vitina da regolare è questa questa per l'anticipo del braccio o il posticipo basta va bene signor Filippa saluti